Siamo nello stand di MT Intermato e siamo in compagnia di Claudio Caprioli che è il presidente della società. Viener Caprioli può spiegarci per cortesia come mai questo bello stand è senza macchina anche se supponiamo di sapere un po' il motivo di questa assenza. L'IMT produce una gamma di macchine che sarebbe particolarmente difficile rappresentare in una fiera perché partiamo da macchine per produrre componenti del settore automobilistico come pistoni quindi pochi millimetri parliamo di circa 100-150 mm di diametro tornibile arriviamo a pezzi che superano i 6 metri di tornibile quindi capisce che è una gamma molto vasta e parliamo spesso di linee automatiche sarebbe pressoché impossibile soddisfare le esigenze del cliente presentando tutto quindi presentiamo soprattutto la modularità non esiste un prodotto standard ma esiste una gamma di prodotti che personalizziamo sulla richiesta del cliente. Questo significa quindi che voi avete una serie di moduli basi che composti in maniera differente danno prodotti differenti. Esattamente questa è la filosofia per ridurre i tempi di realizzazione di consegna esistono dei moduli standardizzati che vengono composti e si può risolvere le esigenze del nostro cliente. Immagino che una parte consistente della vostra produzione sia ormai legata alle linee automatiche ma quanto conta ancora la parte di macchine stand alone? La parte della linea automatica è prioritaria e maggioritaria nel settore dell'automobile perché i numeri e le lavorazioni 7 giorni e 24 ore portano all'utilizzo di sistemi ovviamente automatici di produzione. Su altri tipi di produzione spesso i sistemi sono semi automatici quindi palettizzati per guadagnare nei tempi di carico scarico combinati per abbinare tornitura fresatura eccetera ma spesso non possono essere automatizzati per le dimensioni del pezzo.